Solite polemiche della sinistra, ringrazio Claudio che ha messo a disposizione il suo incarico e la sua professionalità per evitare un altro mese di polemiche sul passato, noi pensiamo al futuro. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Pinzolo, rispondendo a una domanda sulle dimissioni del sottosegretario Durigon. Fascismo e comunismo non tornano, io sono più preoccupato ha aggiunto degli sbarchi, di chi vuole tornare alla legge Fornero, di chi vuole la tassa patrimoniale o la tassa di successione. Quindi ringrazio Claudio che ha dato dimostrazione di amore per l'Italia e la Lega che altri di altri partiti non danno. Sull'Afghanistan Salvini ha parlato di «una ritirata vigliacca e disordinata che lascia spazio ai terroristi islamici». Mi preoccupa che anche in Italia ci siano politici nel PD e nei 5 Stelle che parlano di dialogo con i terroristi islamici. Con un certo tipo di Islam non si dialoga. «Spero che l'Italia torni ad essere protagonista, le porte dell'Italia sono aperte per donne, bimbi e ragazzi che scappano da quella guerra, ma non possiamo permetterci, a maggior ragione, migliaia di sbarchi di persone che non scappano da nessuna guerra. Se c'è un ministro dell'interno faccia il ministro dell'interno e difenda i confini e la sicurezza del nostro paese», ha aggiunto il leader leghista.